Una forte ondata di maltempo con pioggia, vento e grandine è tornata a colpire la costa romagnola. Il veloce passaggio di un fronte freddo a ridosso dell'arco alpino orientale, come recita l'allerta maltempo di livello 1 diramata dall'Agenzia regionale di protezione civile nei giorni scorsi, ha determinato l'ingresso di intense correnti di Bora nella sera fra domenica 21 e lunedì 22 agosto. In particolare la fase di maltempo è iniziata nel tardo pomeriggio di domenica quando il passaggio di una linea a Temporalesca ha iniziato ad essere più sul settore centro-orientale della regione in movimento da nord verso sud. A seguito del passaggio del fronte vi è stato un rapido aumento della ventilazione da nord nord-est con venti moderati forti sulla costa, forti sul mare. Per le macro aree interessate dall'allerta ci sono stati venti con valori di 45-55 chilometri orari, 25-30 nodi e raffiche fino a 55-75 chilometri orari, 30-40 nodi. Nelle riminese si è verificata una tempesta di vento, sabbia e lampi intorno a mezzanotte di domenica. Forti venti di Bora da nord-est si sono inoltre attivati a causa di un ingresso di aria più fresca. Il maltempo ha creato disagio alla viabilità, molte strade e sottopassaggi si sono allagati e diversi alberi si sono spezzati per il forte vento.